Chiacchierata del lunedì in attesa delle ultime partite del turno settimanale in attesa anche dell'inizio, delle coppe inizio, che ricomincino in una settimana che è stata particolarmente intrigante da un punto di vista sportivo perché tanti sono i temi che possiamo affrontare in questa chiacchierata ogni tanto che piace fare quando riesco a vedere almeno più di una partita ecco, sta settimana un paio l'ho vista per cui mi sono detto perché no visto che spesso lo chiedete di farvi checchierata allora partiamo con la cosa allora in quel di Napoli iniziano a vedersi i primi tatuaggi celebrativi per lo scudetto capisco la scaramanzia ma onestamente li capisco cioè ragazzi ora il Napoli sta a più 16 dall'Inter con 16 partite dal termine l'Inter che deve giocare potrebbe votarsi a meno 13 ma sono 13 punti costo Napoli cioè un Napoli che quest'anno come ho più volte detto non solo ha il campionato praticamente mezzo già in tasca dico mezzo per rispetto dei miei amici napoletani perché sennò sarei molto più marcato nel mio modo di vedere le cose ma è un Napoli che rischia tra virgolette di levarsi qualche soddisfazione anche al di fuori dei confini italici per il resto diciamo che è tutto un po' da vedere da vedere perché l'Inter è lì lì si fa per dire è al secondo posto e oggi potrebbe prendere in largo andando a più 5 rispetto all'Atalanta l'Atalanta è venuta a Roma e ha strapazzato la mia Lazio con la Lazio ci ha messo del suo come abbiamo detto ma l'Atalanta è una condizione straripante e devo dire che è sorprendente ecco posso spendere due parole sull'Atalanta visto che non ne parlo mai al di là della mia ben nota antipatia per Gasperini ma a livello generale l'Atalanta è una squadra che fa quello che dovrebbero fare tutte cioè vende bene e compra meglio ecco bisogna dirlo con chiarezza cioè l'Atalanta ogni anno tira fuori giocatori che appartengono a realtà sportive che il mondo tende a ignorare e le trasforma in giocatori da 20, 30, 40 milioni cioè Stoilund voglio vedere cioè vorrei sapere chi lo conosceva prima che arrivassero l'Atalanta sicuramente qualcuno sì ma non credo tantissimi lo stesso Lukman che qua sembra veramente giocatore di livello altissimo prima di arrivare a Bergamo non lo conoscevano in tantissimi voglio dire è una squadra che valorizza ecco quello che dovrebbero fare tutte e nel valorizzare a differenza di realtà un po' più piccole non valorizza per mantenersi in vita ma valorizza per alimentare i suoi obiettivi certo l'Atalanta potrebbe usare un po' di più sotto certi aspetti magari per cambiare un po' la propria dimensione bella squadra con grandi speranze ma che poi non vince niente potrebbe fare quel passo in più per iniziare a vincere anche qualcosa ma resta comunque la realtà in divenire e con margini di crescita enormi che spero per loro spero per loro possano essere approfonditi nel tempo sportivamente adesso mettendo da parte il tifo personale e ripeto una certa antipatia per un personaggio ma è una realtà affascinante sportivamente parlando per cui vedremo un po' cosa accadrà nei prossimi anni ma ripeto fossi Atalantino in questo momento vedrei sta squadra che è meravigliosa ma vorrei vorrei quel salto di qualità in più la Roma passo falso a Lecce vedi a tante volte a prende in giro la Lazio che però diciamo che che la Roma per quanto anche lì si stia sempre a dire è però è però stanno sempre là 41 punti a pari punti con l'Atalanta una squadra che tiene tiene molto bene nonostante abbia fatto anche la Roma tantissimi passi falsi quest'anno abbia buttato di fatto la possibilità di andare a insidare il Napoli ne avrebbe avuto la possibilità in alcuni momenti della stagione che sono stati un po' compromessi forse dal percorso europeo non lo so ma fatto sta che anche la Roma ha parecchi rimpianti tanti tanti rimpianti così come tanti rimpianti li ha il Milan Milan che ripeto come dicevo dato per morto ah oh mio dio il Milan è distrutto è finito sta a 41 punti con l'Atalanta e con la Roma e ha superato la Lazio voglio dire sta a 2 punti dall'Inter in attesa della partita dell'Inter che venga recuperata ma cioè Milan Milan che ha avuto un inizio di campionato talmente esplosivo talmente talmente riuscito che si è potuto permettere anche questo momento di crisi totale che adesso sembrerebbe essere stato parzialmente invertito con la vittoria col Torino certo adesso con l'Europa di mezzo le carte si rimischiano un po' tutte però la sensazione è che il Milan abbia tenuto botta durante la tempesta e che possa adesso ritrovare un po' che poi per l'atto dell'Inter non ho detto niente Inter che sta lì sta lì Inter che si è ritrovata come squadra negli ultimi tempi dopo aver ripassato in padella il Milan in più occasioni ha ritrovato un po' convinzione sicurezza e devo dire che nonostante anche lì ci siano tanti tanti rimpianti in questa stagione perché l'Inter ha buttato parecchie partite resta comunque l'unica squadra che ha battuto il Napoli cosa da non sottovalutare ed è una squadra che adesso può contare sull'autario che sembra essere finalmente consapevole dei propri mezzi ecco diciamolo giocatore che è sempre stato sopra la media molto sopra la media ma che forse non si è mai reso conto di poter essere un fuoriclasse vedendolo da fuori io ripeto io parlo da spettatore esterno poi per tutto quello che non è la Lazio però cioè mi ha sempre dato un po' la sensazione di essere uno di quelli che ha i numeri per ma che forse non se ne rende manco conto lui a volte in una stagione in cui l'Inter ripeto qualche sogno infranto ce l'ha qualche partita che aveva potuto gestire meglio c'è però diciamo che è una squadra che sta tenendo e che per quanto non possa sicuramente iniziare il Napoli perché nessuna squadra è in grado quest'anno ragazzi nessuna squadra è minimamente in grado di iniziare il Napoli però credo che potrà serenamente tenersi il secondo posto ecco per come cioè per come si sono messe le cose oggi io vedo il Napoli primo vabbè penso pure un bambino di tre anni vede il Napoli primo ormai l'Inter la vedo la più papabile per il secondo posto il terzo se lo giocheranno Atalanta e Roma e il quarto Milan e Lazio ma ripeto io il Milan lo vedo in questo momento molto più in ripresa di quanto non sia la Lazio una Lazio che in questo momento come dicevamo nel video post Atalanta Lazio cioè post Lazio Atalanta è in difficoltà è in difficoltà chiaramente in difficoltà stiamo vivendo un periodo non proprio ottimo non proprio eccezionale però è una squadra che comunque io faccio fatica a essere lucido quando parlo di Lazio perché una parte di me è felice di quello che è stato l'anno per adesso a parte la figura in Europa League ma vabbè ma tendenzialmente non mi posso lamentare quest'anno squadra che ha una delle migliori difese se non la migliore no la seconda miglior difesa insieme la terza miglior difesa insieme alla Roma e comunque un buon attacco diciamo stiamo tra i primi 5-6 attacchi del campionato il vero problema della Lazio quest'anno è che è mancato Immobile cioè se andiamo a vedere l'unico l'unico problema quest'anno è che è mancato il solito Immobile ed è mancata una programmazione tale da gestire la situazione in questo possibile scenario che io anticipo da anni che alla fine si è concretizzato ma era ovvio che si sarebbe concretizzato prima o poi ma se a questa Lazio ci metti 10 gol di Immobile in più magari stai dietro l'Inter o magari stai insieme all'Inter o magari stai davanti all'Inter ecco è una squadra che si tende a svilire tanto leggevo anche i commenti nel video della partita con l'Atalanta ah ma la Lazio ma non ti rendi conto la dimensione della Lazio qual è ragazzi la dimensione della Lazio è quella di una squadra che quest'anno è migliorata tanto al di là della tristezza che io posso provare o della rabbia che posso provare in un certo momento non si può dire che la Lazio giochi male o abbia una brutta squadra cioè il problema della Lazio è la società che c'è dietro che non riesce a valorizzare né a far risaltare i lati positivi della squadra ma anzi sembra far di tutto per oscurarli questi lati positivi attraverso una gestione a volte controproducente e non capisco perché non ci sia uno lì in mezzo che riesca a individuare le criticità e a porvi rimedio perché non cioè non è che bisogna avere menti superiori per capire che se c'hai uno come immobile che fa 30 gol a campionato ti devi tutelare nel caso in cui si faccia male cioè siamo proprio cioè sarebbe come dire sai io lavoro sul web tendenzialmente negli ultimi anni quantomeno se mi si rompe il computer che faccio ne ho uno di riserva non all'altezza del mio primo computer ma ne ho un altro se mi si rompe la telecamera ne ho un'altra non è che se mi si rompe la telecamera vado a chiappare la cinepresa a manovella e la Lazio purtroppo è così la Lazio è un content creator un comunicatore che ha la telecamera sola e che se si rompe la devanno a chiedere in giro e magari manco c'è là voglio dire per cui non lo so a volte a volte è deprimente quello ma al di là della rabbia che io possa avere in certi momenti al di là della delusione che magari mi può provocare anche Sarri in quest'ultimo periodo che credo abbia potuto cioè che avrebbe potuto fare cose diverse anche lui però a questa Lazio non puoi chiedere di più con i mezzi a disposizione potrei chiedere di più chiedo di più alla società che c'è dietro ma alla squadra alla squadra chiederei semplicemente un po' più di grinta ma mi rendo conto che a volte se il fisico non risponde tutta sta grinta manco ce la puoi mettere tant'è che sono terrorizzato adesso all'inizio della conference terrorizzato adesso se se giovedì non facciamo turnover di 11 giocatori su 11 io impazzisco perché se vedo sempre gli stessi e poi ritrovarci mamma mia che ansia no ma io vorrei farlo dare una cosa peraltro in chiusura di discorsi la Juventus Juventus anche lì planizzazione stagione finita oh la Juventus sta a 10 punti dalla Lazio cioè non è che dici sai mamma mia cioè la Juventus se continua così cosa che non mi sento di escludere si prenderà l'Europa magari minore magari sarà solo conference ma questa Juventus si prende l'Europa ragazzi è inutile che stiamo sempre lì a dire ah ma tanto la Juventus è finita sta cippa è finita tutti quanti a far funerare la Juventus perché ormai sport nazionale andrà contro la Juventus mi rendo conto per carità sarà che io non sono anti niente sono semplicemente laziale ma Juventus che sta a 29 punti la Lazio sta a 39 il Milan sta a 41 ragazzi la Juventus è lì se la Juventus riesce a fare 10 vittorie su 16 partite si prende l'Europa magari anche l'Europa League se fa 30 punti e arriva a 69 la Juventus si prende l'Europa League la Champions chiaramente è impossibile ma l'Europa League no specialmente se chi sta concorrendo per andarci in questo momento dovesse continuare a fare una partita sì una partita no una partita sì una partita no cioè chi mi sta deducendo un botto ma credo di non essere l'unico a a pensarlo specialmente i coinvolti lo saranno pensando è la Fiorentina la Fiorentina io credevo avrebbe fatto un campionato molto diverso da quello che poi effettivamente ha fatto ma 24 punti per quella Fiorentina sono veramente pochi sono veramente pochi cioè la Fiorentina che sta a più 10 dalla zona retrocessione no questa Fiorentina non può stare lì lo vogliamo dire non può stare lì non può stare sottar Monza sta Fiorentina quattro Monza squadra interessantissima ma non può stare lì discorso retrocessione ragazzi allora Cremonese spacciata vabbè Sampdoria spacciatina un pochino ecco Verona Verona è Spezia se giocano adesso ma io credo che Verona è Spezia le altre ormai la Serenitana rischia ma diciamo che Verona è Samp cioè la Samp si può salvare solo se la Juve si becca altri punti di penalizzazione ma ne dovrebbe prendere altri 40 per entrare cioè anche lì data già ah no perché la Juventus adesso la manna non sarebbe ma la Juventus gli è dai 10 punti in tre partite la la parete è già ripresi quindi non non la vedo probabilissima come possibilità a meno che non dovesse prendere veramente decisamente gli danno 40 punti di penalizzazione vabbè ma messa messa così onestamente la trovo improbabile comunque il concetto che vorrei esprimere in chiusura è uno solo a legge i giornali sembra veramente che la realtà sia un'altra per tutte le squadre cioè non si parla del scudetto per Napoli tendenzialmente si parla di un Milan prossimo alla serie B si parla di una Juventus prossimo alla serie B si parla di una Lazio in crisi totale quando in realtà sta in difficoltà ma tutta sta crisi non la vedo si parla poco dell'Atalanta onestamente si parla molto poco dell'Atalanta e anche della Roma onestamente non ho ben capito quale sia della Roma si parla poco nell'ultimo periodo non vedo titoloni si parla solo di Zaniolo ultimamente su cui dovremmo aprire una pagina lunghissima che mi risparmio in questo momento perché sì mi limiterò a dire che la cosa non è stata gestita proprio benissimo da tutte le parti coinvolte dal mio punto di vista se poteva fare diversamente si poteva si poteva sempre da spettatore estero che poi a me fondamentalmente non me ne può fregare di meno ma credo si potesse gestire diversamente cioè siamo passati da Zaniolo re di Roma a Ingrato maledetto per carità lui non non è mai stato molto lungimirante questo bisogna dirlo nei suoi comportamenti ma forse tanti romanisti avranno capito quello che intendevamo anche noi laziali in alcuni momenti della sua carriera quando parlavamo di una persona che valutava poco il peso delle sue parole ma magari io per carità essendo giocatore dell'Italia mi auguro per l'Italia nazionale che possa riprendersi perché giocatore di valore di testa non mi è mai piaciuto granché dico la verità parere puramente personale ma calcisticamente parlando è chiaramente un talento mi auguro che possa avere una ripresa che possa avere una vera ripresa sportiva tale da renderlo un perno della nazionale che verrà ecco perché giocatori così in questa nazionale credo facciano comodo se recuperati da un punto di vista anche mentale che mi auguro insomma i vari ballotelli e cassani della situazione ne abbiamo avuti tanti sarebbe triste vederne un altro ecco complessivamente però lo dico con tutta l'antipatia del mondo che ho verso di lui per tutto quello che ha detto e fatto negli anni scorsi però cerco cerco nei limiti del possibile di essere quanto più neutrale possibile in questi momenti ragazzi niente ho chiacchierato abbastanza vi ho rincoglionito a sufficienza un abbraccione ci vediamo penso dopo la partita della Lazio giovedì e niente passate una bella settimana sempre forza Lazio alla prossima ciao